Ciao ragazze e ragazze, siamo arrivati una volta al mese, stavolta... Ci sono tornati dai vecchi tempi, dai! Uno solo da dieci, eh! Immigiatario! Foto? Vedete che c'è la luce qui? Dai, grata per piacere, eh! Mi raccomando! Grata con le unghie! Dai! Allora, primo numero della lotteria di Capodanno... Ecco! Quarantanove! Mio papà! Suo papà! Diciannove! Oh, la nonna Carla! La nonna Carla, qui facciamo tutta la famiglia! Sì, estensione, eh! Ventotto! No! La te cuisine! No, non so chi è questo! Venticinque! Natalino! Natalino! Cinquantadue! Non lo so! Cinquantadue è... Devi saperlo te cos'è il cinquantadue! Cinquantadue è il bacon! Benissimo, vai! Pronti! Primo numero cinquantacinque! Che cos'è? La maratona! Benissimo! Undici! Undici! Patrick Hernandez! Botto B e Lai! Ventidue! I gemelli! L'olio di ricino! Benissimo! Trentotto! Trentotto c'è il ventotto! Trentotto è la trachea! Benissimo! Cinquantuno! Il buco del... C'è cinquantadue! Non dire parolacce! Quarantatré! Ziu giovanini! La gamba attaccata al pe... Dai! Trentasette! I numeri della paura! La mia la con fuori dai tette! Ecco! Quarantuno! Orca miseria! Quarantuno è il glicine! Il glicine! Cinquantaquattro! Il glicine è la mimosa! Benissimo! 27 e il papà! 24! Lo zio felice! Lo zio felice! 18! Porca 19! Vai che ci prendono per il... Mica da ridere! Dai dai dai! 31! Uh! 31! È il ramo secco! Benissimo! 26! La zia Margherita! 14! La cocaina! Miseria! 40! La Marilu! 40! Ma il piano che non riesco a stare dietro! 40! È il... L'origano! Ok! 32! È la nonna Carla! La nonna Carla! 50! La palude! La palude! 13! Rosso di fuoco! 16! Le balle che mi girano! Dai vediamo il... Oh! C'è un 2! Mari 50! No! Il primo è il 2 è il primo! 29! Eh! Va a Marilu! 29 abbiamo il 28! Sono rimasta malissimo! Niente! Niente alla prossima! Sto che andrà a lavorare! Non ho miliardario niente stavolta! Guardate bene anche voi! Niente! Prossimo giro! Prossima corsa! 10 euro! 10 euro! Sono rimasta male! Così? Com'è che è? Così? Vola! 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 Colomba bianca! Vola! Ma qui sono i muratori! Ci abbiamo i muratori che stanno spaccando la casa di fuoco! Qui è andata fuori eh! Ragazzi! Mica sempre si può vincere! Alla prossima mi raccomando massimo 10 euro e una volta al mese! Ecco! Proviamo! Proviamo il mese prossimo! Consigliateci voi un altro se volete! C'è un po' che da consigliare non si vince più un tubo qua! Un abbraccione un bacione! Ciao! E viva l'amore! Alla prossima! Ma non è possibile eh! Non è male dai il cazzo tu! Vediamo! Non c'è gli occhiali che si guarda! Vedo! Miglialario lo vedo eh! Dai Sara su! Ciao! Andiamo a lavorare va che è meglio!